Eccoci qua con Carlin Petrini, al quale chiediamo qual è l'importanza di questa giornata di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Scienze Gastronomiche con un ospite importante come Renzo Piano. È stata una cerimonia di apertura dell'anno accademico molto importante che segna anche la ripresa della presenza fisica di tutti gli studenti nella vita dell'Università. Dopo due anni difficili l'auspicio che noi tutti ci facciamo è che questo nuovo anno accademico possa svolgersi regolarmente con tutte le prudence del caso ma che possa segnare l'inizio di una nuova ripresa. Quali sono i progetti per l'anno iniziato? I progetti ce ne sono molti compreso una nuova magistrale, l'ideazione di una nuova magistrale ed è la fondazione di una società internazionale di scienze gastronomiche che veda personalità di tutto il mondo che lavorano sul fronte della gastronomia per fare in modo che altre polenze si possano costruire nel mondo.